E' pronto ormai anche il programma definitivo dell'area al maestranza e così il capitano, il maestro Calogero Garzia, dopo lo stand-by del 2020 e 2021, sfilerà per le vie del centro il mercoledì santo. Questo sabato, il 2 aprile, sarà anche il sabato del capitano dedicato alla Madonna della Providenza, con la riunione in cattedrale alle 18 di tutte le categorie e alle 18.30 la Santa Messa celebrata da Monsignor Gaetano Canalella. Domenica si svolgerà invece la cerimonia di passaggio di consegne della categoria entrante del portabandiera, la bardiere e portabaldacchino alle 11, subito dopo la Santa Messa. Confermati gli esercizi spirituali nel mondo del lavoro nella chiesa di Sant'Agata al collegio il 6 e 7 aprile, guidate dai sacerdoti Rino dell'ospedale Alongi e Andrea Moscarella, seguiti dalla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi nissena. Il 9 aprile la Real Mestranza parteciperà alla via Crucis con le vare e vengono riconfermate anche le visite del capitano insieme ad una rappresentanza della Real Mestranza all'istituto di pena minorile nella mattina del venerdì santo e il giorno successivo invece alla polizia penitenziaria, detenuti e personale della casa circondaria Lenissena. Il programma del mercoledì santo invece rimane più o meno quello tradizionale con la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco al capitano davanti all'ingresso del palazzo municipale e il corteo per le vie del centro. La novità riguarda la consegna del Santissimo Crocifisso al capitano che avverrà all'interno della chiesa di Sant'Agata al collegio, lì dove il giorno prima avverrà l'intronizzazione. Il giovedì santo la Real Mestranza parteciperà alla Santa Messa in cena domini e il venerdì santo alla processione che accompagna il Santissimo Crocifisso Signore della città. Infine la domenica di Pasqua ci sarà l'omaggio al vescovo Monsignor Mario Russotto nei pressi del seminario vescovile e poi la Real Mestranza sarà presente anche in cattedrale per il solenne pontificale pasquale e al termine il capitano riconsegnerà al primo cittadino le chiavi della città. Si preannuncia anche la processione dell'8 maggio in onore del Santo Patrono con la partecipazione della Real Mestranza.